Una buona giornata a tutti i nostri telespettatori, torna all'informazione di TRMH24. In primo piano torniamo a parlarvi di Acciaieri d'Italia. Ieri a Roma i sindacati si sono incontrati con i vertici del governo per trovare una soluzione. Basta con l'era Mittal, dicono. Il governo adesso prenda in mano le redini della società. Sentite. In Vitalia passi in maggioranza, non ci sono altre strade per FIOM, WILM e OSB Taranto a Roma per l'avvertenza Acciaieri d'Italia. Con loro il governatore Emiliano e diversi sindaci della provincia, a partire dal presidente, primo cittadino di Taranto, Melucci. L'era Arcelor Mittal per i sindacati deve finire. In Italia deve assumere il capitale sociale di Acciaieri d'Italia di maggioranza per garantire un processo di transizione sociale, ecologica e industriale per quanto riguarda il tessuto produttivo non solo di Taranto ma dell'intero mezzogiorno del paese. Se è davvero un sito di interesse strategico, come più volte ce l'hanno ricordato, riteniamo che non possa essere gestito e non possa essere nelle mani della multinazionale che ha depeparato quello stabilimento. Abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e credo che bisogna invertire completamente la rotta. Hanno consegnato un documento ai parlamentari ionici, ai sindacati. Abbiamo elaborato un documento già il 21 novembre dove abbiamo speso le prime 24 ore di sciopero con il sindaco Melucci dove chiedevamo che l'unica strada possibile, e su questo il ministro era d'accordo con noi, era il passaggio dello Stato in maggioranza. In realtà noi avevamo anche chiesto di nazionalizzare, cioè requisire gli impianti ad Acciaieri d'Italia, ad Arcelor Mittal, per innata impienza sotto il profilo occupazionale e produttivo, perché Acciaieri d'Italia è dal 2018 che prende sotto ricatto e il territorio e l'intero governo nazionale. Il ministro ci aveva garantito di sovraordinare i finanziamenti pubblici a una ricapitalizzazione, questo non sta avvenendo. Consegnati anche i risultati del referendum, posto ai lavoratori che in maggioranza hanno espresso la volontà che il finanziamento pubblico, l'ultimo di 680 milioni, sia utilizzato per la transizione ecologica e sociale. Oltre 6.000 persone si sono espresse chiaramente, l'investimento pubblico deve essere gestito dallo Stato e quindi noi chiediamo sostanzialmente un cambio di passo rispetto a quella che è la decisione in totale continuità con i governi precedenti fatta dal governo attuale. In tutto questo non solo non ci hanno ascoltato, addirittura vi hanno anche inserito quella norma sull'esimente penale, anche su questo noi vogliamo ragionare, ci sembra irrazionale tale decisione. Prossimo appuntamento il 19 gennaio, lo sciopero con tutti i lavoratori di Acciaierie d'Italia, di ILVA in amministrazione straordinaria dell'appalto, in concomitanza con il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al fianco dei lavoratori e dei sindacati, ieri a Roma presenti anche il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Non possiamo che condividere la decisione dei lavoratori della ex ILVA di Taranto e delle istituzioni locali di manifestare davanti al Parlamento per farsi ascoltare da istituzioni romane che da anni e da anni ci trascinano continuamente in situazioni penose per i lavoratori e penose per chi ha dovuto in famiglia registrare lutti a causa dell'inquinamento. Non è bastato un processo importante con una sentenza di grande rilievo dal punto di vista dell'accertamento dei reati contro la salute che sono stati commessi. Non sono bastati tanti governi diversi, abbiamo visto passare tanti presidenti del Consiglio e mai trovare una soluzione definitiva ad una fabbrica che per ammissione di tutte le istituzioni nazionali viene considerata strategica che deve però sopportare sia la perdita di salute da parte dei cittadini sia la perdita del lavoro. A noi sembra che il governo sia un po' in confusione, vogliamo essere veramente di sostegno ai lavori parlamentari del ministro Urso, perciò in vista di giorno 19 insieme alle parti sociali tutti gli enti locali del territorio presenteremo la nostra proposta programmatica per il futuro dell'ex ILVA perché non siamo più disponibili a concedere deroghe piuttosto che investimenti a fondo perduto senza una progettualità per il futuro. E credo che si possa partire dalle idee del piano industriale che aveva presentato la Regione Puglia qualche anno fa sulla decarbonizzazione, il DRA e altre tecnologie legate anche al ciclo dell'idrogeno. Sulla base di queste proposte vogliamo anche responsabilmente come enti locali e istituzioni far fronte al disagio dei lavoratori. Spero che insomma da questa giornata che vede unita tutta la comunità ionica e pugliese ci sia veramente un punto di svolta per la vicenda ILVA. E continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Ieri pomeriggio è crollata nel centro storico di Canosa, ci troviamo nella Bat, un'abitazione. I due inquilini della palazzina, si tratta di un uomo di 75 anni e una donna di 60, di origini rumene, sono stati estratti vivi dalle macerie e trasportati in ospedale in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti medici del 118 e vigili del fuoco ed è proprio uno dei vigili. Accorsi è stato ferito dal crollo di un soffitto ma le sue condizioni sono buone. L'uomo è stato così trasportato all'ospedale di Andrea per gli opportuni accertamenti. Si indaga ancora adesso sulle cause del crollo. Ieri sera a Bari invece è caduto un albero in corso Vittorio Veneto, probabilmente a causa del forte vento delle scorse ore, su un'auto. Le persone a bordo del mezzo, che vi stiamo mostrando in questo momento, hanno riportato solo lievi ferite. E in avanti con la sanità stop alla mobilità passiva, una possibilità può arrivare da un'intesa tra il ministro della Sanità e il ministro dell'Economia e Finanza. Avvia il piano della Puglia per porre argine al fenomeno della mobilità sanitaria passiva, ossia coloro che dovendo sottoporsi a cure o interventi vanno in un'altra regione. Si è deciso in sostanza di sottoscrivere intese con i principali territori di destinazione per porre un tetto ai rimborsi. Si stima che con questa operazione si possano recuperare circa 70 milioni nel 2023. Abbiamo già da tempo effettuato un'analisi delle prestazioni che rientrano nel perimetro della mobilità passiva. Cioè tutti quei pazienti, tutti quei cittadini pugliesi che si rivolgono a strutture sanitarie pubbliche e private accreditate fuori dalla regione Puglia. Rispetto a questa analisi abbiamo costruito un piano per il recupero delle prestazioni che potremmo tranquillamente erogare all'interno delle strutture sia pubbliche che private accreditate pugliesi. Abbiamo elaborato e approvato un provvedimento in giunta nel marzo del 2022. Lo abbiamo trasmesso ai ministeri affiancanti perché non dimentichiamoci che la regione Puglia è in piano operativo. I ministeri lo hanno approvato nel corso del mese di ottobre e siamo partiti con il primo contratto con le regioni confinanti. Esattamente con la regione Basilicata alla quale abbiamo trasmesso il nostro modello di tipo assistenziale ovviamente bionivoco sia verso la Basilicata sia dalla Basilicata. La Basilicata ci ha risposto, stiamo per chiudere l'accordo e poi proseguiremo con tutte le altre regioni. In particolare con le regioni del nord verso le quali il nostro flusso di mobilità è più rilevante. E spostiamoci proprio in Basilicata. A Matera c'è una schiarita sul fronte del servizio di mensa scolastica nelle scuole. È prevista per la prossima settimana, anche se non c'è ancora una data certa, la ripartenza del servizio di mensa scolastica nelle scuole cittadine di Matera. A darne notizia con una nota e il comune alla base delle lungaggini per la ripresa e il passaggio di consegne tra la ditta, la disa di Bari e la società romana subentrante, la vivenda. Che spiegano dal sesto piano il sindaco Domenico Bernardi e l'assessore alla pubblica istruzione Valeria Piscopiello è costato dieci giorni di imprevedibili disagi. Nella nota si parla di imprevisti tecnici e anche di una trattativa sindacale particolarmente complessa e articolata. Il tutto però necessario a garantire un altro aspetto altrettanto importante che è la ricollocazione funzionale di tutto il personale della precedente gestione. Solo per questa ragione, precisano ancora, non è ancora possibile indicare la data precisa, pur essendo comune e gestore già pronti. Una trattativa piuttosto tribolata, quella che vede coinvolti 65 dipendenti dell'Aladisa, con una ostinata e inspiegabile, specificano da via Aldomoro, resistenza sindacale. Ormai rimasta unico ostacolo alla piena riattivazione del servizio, visto che il comune, conclude, ha concordato con il gestore la predisposizione di attrezzature e locali per la preparazione e somministrazione dei pasti. E chiudiamo con la pagina sportiva. Continua a far parlare il gol, non gol, di Noi Cattaro-Castellana. La partita non è stata ancora omologata dopo la causa di ricorso presentato proprio dal Noi Cattaro. Presidente Tisci, il caso della partita Noi Cattaro-Castellana continua a far discutere. La partita non è stata ancora omologata, perché? Ma è un caso ancora aperto, perché la società Noi Cattaro aveva fatto riserva scritta per annuncio telegrafico e il giudice non poteva entrare nel mezzo alle fede, deve aspettare per forza il ricorso. E questo slitta di una settimana la decisione. Dal punto di vista mediatico se ne è parlato tanto, qual è la sua opinione? Ma peccato, perché si poteva evitare con una buona volontà da parte del Castellana, che poteva dare un esempio di lealtà sportiva, di fair play, o facendo pareggiare il Noi Cattaro, oppure dicendo all'ardo che non è la gol. Purtroppo in quel momento la società si è fatta prende all'emozione della vittoria e questo ha comportato una serie di critiche e una serie di video che sono girati sui social. Siamo andati anche a sostriccio la notizia, per cui ha avuto un clamore in tutta Italia questo episodio che si poteva benissimo evitare. Non sono bastate le scuse del Castellana? Ho preso atto che il Castellana ha fatto un commegato stampa la sera di scuse e soprattutto il giorno dopo ha fatto anche un'email al comitato in cui si dichiarava disponibile a far ripetere la partita. Però il problema è che non è possibile questo, l'unica decisione è contenuta nel referto arbitrale se l'arbitro conferma il risultato o ammette qualcos'altro. Adesso non lo sappiamo, dobbiamo aspettare per forza martedì prossimo. E questa era la nostra ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.